A me sembra che qui non manchi nulla, anche se io sono la più depressa e quella che... Perché? Ma perché alla fine gli anni passano e ti accorgi che non hai visto il mondo, sei stata qui. Il coccante ha scritto una canzone lì in questo campo e casualmente quelli che hanno dormito qui vincevano. Grazie per la visione! Grazie a tutti!